Gli aiuti alla popolazione terremotata del Friuli nel 1976, la costruzione dell'asilo a Rosso Shinrussia negli anni 90, esperienze che hanno unito alpini provenienti da diverse province e che si sono ritrovati in Valnure per celebrare oggi i 50 anni del gruppo di Vigolzone, mezzo secolo all'insegna della fratellanza e della solidarietà. Qua eravamo circondati da gruppi alpini, Pondenzano, Ponte, San Giorgio e l'abbiamo formato, siamo cresciuti e siamo diventati un bel gruppo. Abbiamo cominciato col terremoto in Friuli, siamo andati in tanti di Vigolzone per quattro anni di fila e oggi abbiamo qua della gente di Gemona, di Osoppo, dove siamo stati a lavorare. Quel ragazzo lì aveva 15 anni, ci portava i panini, quanto lavoravamo a casa sua. Bello di oggi che al di là della festa del gruppo è anche una giornata, c'è un ritrovo organizzato appunto dal capogruppo Morosoli con i suoi amici alpini che erano con lui in Friuli nel 76, in occhio del terremoto, che è stato il primo intervento della nostra azione da cui poi ha preso corpo la nostra protezione civile. Siamo onorati noi naturalmente di partecipare a questo evento e con di più portare la bandiera che è sventolata, nel cantiere numero 6, a Maiano. Si è vissuto un'esperienza di fratelli, veramente, è stata una cosa magnifica. Si è conosciuto una parte del popolo russo, la bontà, la disponibilità del popolo russo si è legato molto. Oggi siamo venuti qua perché ci ha invitati il nostro amico Morosoli, che eravamo dello stesso turno, del stesso turno del 92. Per rendere immortali i 50 anni del gruppo è uscito anche un volume curato da Renato Passerini, Oreste Grana e Paolo Provesi. Abbiamo cercato di radunare più materiale possibile intercalando naturalmente testi e tante tante fotografie e poi soprattutto raccontando la storia di questi 50 anni attraverso ritagli di giornale, chiaramente libertà in prima linea. Dopo l'alza bandiera e la sfilata, le penne nere hanno partecipato alla messa celebrata dal cappellano alpino Don Stefano Garilli con il parroco di Vigolzone Don Piero Lezzoli. Gli alpini hanno raccolto fondi da donare a Teleton per la ricerca.